oraria di apertura e chiusura villa comunale ecco la villa ecco il montezuma imbragato vecchiotto ma ancora all'impiede questo è montezuma l'aria di sicurezza ecco la fontanella ecco la fredda ecco la fredda ecco la fredda ecco la fredda ecco il percorso di sicurezza del montezuma ecco la fredda ecco la fredda ecco la fredda ecco la fredda e leggi sostituiti buongiorno salve andiamo a fare un servizio ecco la fredda questo è un monumento alla famiglia installato nel 1987 a cura della fuci di nola purtroppo erano cinque astace una famiglia padre e figli padre e moglie e tre figli ma nel tempo i vandelli hanno ridotto in queste condizioni ritengo che vada ripristinato ad opera dell'artista viaggione che lo installò all'epoca ecco la fredda ecco la fredda ecco la fredda ecco la fredda Sì, è vero. Questi sono i servizi igienici ripristinati, con le toilette uomini e donne e anche per i disabili e servizi igienici. Questa è la statua di Tommaso Vitale, il sindaco che è la villa comunale.